E' stata una partita molto difficile, beh sì, devo dire che è stata una partita molto combattuta, specie nel secondo set dopo aver perso il primo, però sono stato un po' fortunato e alla fine ho portato a casa il risultato. Il prossimo sarà un match ancora più difficile, sì, ancora tendo di sapere il nome del prossimo avversario, ma qui al Guzzini non ci sennò mai, ogni partita è davvero una lotta.